Sono Cesare Panzeri, molti mi conoscono come Cece, sono papà di quattro figli, tutti studenti, anch'io sono insegnante, per questo la scuola ha un po' il mio mondo, un mondo che è sempre più trascurato dalle istituzioni e tocca a noi lottare per sostenerlo nella struttura, nel funzionamento e nei progetti educativi e didattici. Andiamo al lago. Tra i miei ricordi più cari di gioventù c'è il lago, si giocava sulle sponde, si pescava e si faceva anche il bagno. Il mio sogno è di vedere il nostro lago pulito dentro e fuori, perché possa tornare ad essere un luogo di riferimento per il tempo libero degli oggionesi, ma anche fonte di risorse per lo sviluppo di un turismo ecosostenibile, che permetta di salvaguardare la natura e creare nuove opportunità di lavoro per i nostri giovani. Se anche tu vuoi provarci con noi, sostieni la nostra lista. Il 25 maggio, vota Arveno Fumagalli.